Salve a tutti e benvenuti a Truth Over News. Molte delle attuali accuse di corruzione di Joe Biden risalgono ai primi viaggi di Hunter Biden in Cina con il padre sull'Air Force Chu. Ma di recente sono emerse una marea di nuove informazioni. Tra queste, due distinti informatori, uno del IRS, che ha coinvolto l'indagine penale su Hunter Biden, e un altro che conferma la corruzione e le probabili tangenti di Joe Biden. Abbiamo anche le accuse del deputato James Comer sui flussi di denaro estero attraverso le società di comodo verso la famiglia Biden. Le accuse di corruzione dell'informatore, che descrivono l'associazione a delinquere che coinvolge l'allora vicepresidente Joe Biden e un cittadino straniero in relazione al denaro in cambio di decisioni politiche, sono indubbiamente gravi, ma potrebbero essere solo la punta dell'iceberg. In questo episodio analizziamo alcune delle transazioni più eclatanti e discutibili della famiglia Biden e vi forniamo nuove informazioni sorprendenti, alcune delle quali sono ancora in fase di ricostruzione. Il 16 aprile 2014 Joe Biden si è incontrato alla Casa Bianca con David Archer, socio in affari di Hunter. Sebbene non si sappia di cosa abbiano discusso, sembra che dopo questo incontro siano accadute diverse cose. Una settimana dopo, il 21 aprile, Joe Biden si è recato in Ucraina offrendo non solo il suo sostegno politico, ma anche 50 milioni di aiuti per il nuovo traballante governo. Il giorno dopo, il 22 aprile 2014, Archer entrava a far parte del consiglio di amministrazione di Burisma. E nello stesso mese anche Hunter è entrato nel consiglio di amministrazione di Burisma. Ma l'annuncio viene fatto solo il 12 maggio 2014, a conclusione della visita del padre in Ucraina. Un altro fatto particolarmente interessante è un curioso viaggio lampo di Joe Biden il 21 maggio 2014 in Romania e a Cipro. La prima visita di un alto funzionario statunitense in 50 anni. E, guarda caso, il quartier generale di Burisma è a Cipro. La Casa Bianca non ha fornito spiegazioni su questo viaggio. Si è limitata a dire che Biden voleva dare un forte sostegno a un accordo internazionale per riunificare l'isola. Ma la tempistica della nomina di Hunter Biden nel CDA di Burisma evidentemente non è casuale. E non lo è nemmeno il viaggio di Joe Biden a Cipro. Il 12 maggio, lo stesso giorno in cui è stata annunciata formalmente la nomina di Hunter, il dirigente di Burisma, Vadim Posarsky, ha inviato un'email sia a Hunter che a Devin, dicendo, abbiamo urgente bisogno di un consiglio su come usare la vostra influenza per mandare un messaggio, un segnale, per bloccare quelle che noi consideriamo azioni politicamente motivate. Le azioni politicamente motivate a cui Posarsky fa riferimento sono le indagini in corso su Burisma e sul suo proprietario, Mikola Zlochevsky, che avrebbe ricevuto un numero abnorme di concessioni di estrazione di petrolio e gas in Ucraina mentre era ministro delle risorse naturali. Nell'aprile 2014, lo stesso mese in cui Hunter entra in Burisma, l'ufficio del procuratore generale ucraino apre un'indagine sulla società. L'indagine inizia a seguito del congelamento da parte delle autorità britanniche di 23 milioni e mezzo di beni appartenenti a Zlochevsky, nell'ambito di un'indagine di riciclaggio di denaro. Ma solo otto mesi dopo, nel dicembre 2014, il procuratore capo ucraino Vitaly Yarema, in una lettera al Tribunale di Londra, dichiarava che non vi era alcuna inchiesta in corso su Zlochevsky. Di conseguenza, il Regno Unito ha sbloccato i beni congelati. George Kent, che all'epoca è il vice capo missione a Kiev, scrive in seguito in un'email di essere stato informato dal vice procuratore generale dell'Ucraina che Burisma ha pagato una tangente di 7 milioni per bloccare le indagine su Zlochevsky. All'epoca della presunta tangente, Hunter era, secondo la stessa Burisma, responsabile degli affari legali della società. Il procuratore ucraino Vitaly Yarema si dimette il 9 febbraio 2015. Il sostituto di Yarema è Viktor Shokin, un ex procuratore richiamato dalla pensione dal presidente ucraino Peter Porushenko, e nominato il giorno successivo, il 10 febbraio 2015. Inizialmente, la nomina di Shokin è accolta con favore dai funzionari statunitensi, tra cui Victoria Nuland, che in un messaggio a Shokin nel giugno 2015 si dice impressionata dell'ambizioso programma di riforme e anticorruzione del suo governo. Ma il sostegno a Shokin dura molto poco. Il 2 novembre, Hunter riceve un'altra email da Pozarsky di Burisma, che gli chiede di produrre risultati al fine di chiudere ogni indagine o procedimento contro il proprietario di Burisma. Pozarsky, che aveva già incontrato Joe Biden in occasione di una cena a Washington il 16 aprile 2015, di questo parleremo più avanti, sembrava prendere di mira Shokin, che aveva riaperto le indagini su Zlochevsky. Indagini che erano state chiuse dal suo predecessore. Shokin ha anche ottenuto dai tribunali ucraini il sequestro dei beni di Zlochevsky. I beni vengono sequestrati il 2 febbraio 2016, lo stesso giorno in cui Pozarsky, con un'email, chiede a Hunter a che punto siano i favori che gli ha chiesto. Hunter improvvisamente contatta Amos Hachstein, il coordinatore dell'inviato speciale di Obama per gli affari energetici internazionali. Quattro giorni dopo, il 6 novembre, si incontrano. Hachstein ha poi dichiarato agli investigatori del Parlamento che Hunter voleva conoscere il suo punto di vista su Burisma e Zlochevsky. Meno di tre settimane dopo l'email di Zlochevsky, il 22 novembre, Joe Biden chiede la rimozione di Shokin. Quando il presidente ucraino Petro Poroshenko non esegue l'ordine, Biden lo fa fuori facendo leva su un miliardo di dollari di soldi pubblici di garanzie. E Shokin, puntualmente, viene rimosso da Poroshenko nel marzo 2016. Come è noto, Biden in seguito se ne vanterà, alquanto stupidamente, in pubblico. Il presidente è stato un prospettivo, e non lo ha fatto. Quindi si stavano fuori alla presso, e mi chiedono, no, non ci saranno i milioni di dollari. Mi chiedono, non hai la autorità, non sei il presidente. Il presidente ha detto, ho detto, chiamato. Ho detto, sto dicendo, non ti ricevono i milioni di dollari. Ho detto, non ti ricevono i milioni di dollari, e mi credo che ci sono state sei sei ore, e ho detto, sono state sei ore, e ho detto, non ti ricevono sei ore. Se il prospettivo non è tirato, non ti ricevono il dinero. Questa storia necessita di ulteriori approfondimenti e dettagli. Joe Biden si è occupato di Ucraina dopo che Victoria Nuland, assistente ministro degli esteri per gli affari europei ed euro-asiatici per Obama, ha avuto una conversazione con l'allora ambasciatore statunitense in Ucraina, Geoffrey Payet, che è stata intercettata e fatta trapelare alla BBC. Nella telefonata, Nuland, che ora è sottosegretario agli esteri per gli affari politici di Joe Biden, ha discusso della destituzione dell'allora presidente ucraino, Viktor Yanukovych, e dell'insediamento del leader dell'opposizione, Arsenij Yatsenyak, a primo ministro. Durante la conversazione, la Nuland ha sottolineato che l'allora consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, le aveva detto che c'era bisogno di Biden, e ha concluso dicendo a Payet che Biden era disponibile. Biden è stato nominato uomo di punta dell'amministrazione Obama sull'Ucraina nel febbraio 2014. Il 22 febbraio, Yanukovych è stato rimosso da presidente dell'Ucraina e tre giorni dopo, Yatsenyak, il candidato favorito dalla Nuland, è diventato primo ministro. Nello stesso periodo, il 14 febbraio, la donna d'affari russa Elena Baturina ha effettuato un pagamento di 3 milioni e mezzo di dollari alla Rosemont Seneca, la società di investimenti di Hunter. Baturina è l'ex moglie del defunto Yuri Lujkov, sindaco di Mosca. Baturina ha anche inviato una serie di pagamenti tra il 6 maggio 2015 e l'8 dicembre 2015 a Rosemont. I pagamenti di Baturina sono descritti in dettaglio in un rapporto del Senato del settembre 2020. Ma la storia completa dei pagamenti a Hunter Biden è da sempre poco chiara. Ora ci chiediamo come sono stati coinvolti i Biden in Burisma. Perché Joe Biden ha fatto quello strano viaggio il 21 maggio 2014 in Romania e a Cipro, la prima visita di un alto funzionario degli Stati Uniti in 50 anni, dove, guarda caso, c'è la sede di Burisma. Perché la Baturina ha accreditato 3 milioni e mezzo di dollari all'inizio del 2014 alla finanziaria di Hunter? Altri interrogativi sono sollevati da un articolo del New York Post in cui si legge che Baturina ha incontrato Hunter e il suo socio d'affari di allora Devon Archer per un drink nell'aprile 2014 a Villa d'Este. Un noto ritrovo di oligarchi russi sul lago di Como. Perché mai Hunter e Archer hanno un incontro informale in Italia con la Baturina in questo momento quando sono appena entrati nel consiglio di Burisma? Lo stesso articolo del Post aggiunge anche che, durante lo stesso viaggio, Hunter ha incontrato anche l'oligarca russo ucraino proprietario di Burisma, Mikolai Zlochevsky. E questo ci riporta l'email del 12 maggio 2014 inviata da Pozzarsky di Burisma a Hunter, di cui abbiamo parlato all'inizio. L'email di Pozzarsky iniziava con, a seguito dei nostri colloqui sul lago di Como e delle nostre ulteriori discussioni, vorrei portare alla tua attenzione la seguente situazione. Pozzarsky si sofferma poi sui problemi legali di Burisma. Tutti questi eventi che riguardano Hunter, Joe Biden, Burisma e Baturina risultano essere interconnessi. Connessioni che vediamo nella cena tenutasi al Caffè Milano di Washington il 16 aprile 2015. La stessa cena a cui ha partecipato Pozzarsky di cui abbiamo parlato poco fa. Da una serie di email del marzo 2015 sappiamo che Pozzarsky, indicato come Vadim, e Baturina, indicata come Ilana e Marito, sono stati entrambi invitati da Hunter a partecipare. Joe Biden non si è mosso per un certo tempo, sebbene non sia chiaro se la Baturina abbia effettivamente partecipato a questa cena. Ma le incredibili coincidenze tempistiche e di sovrapposizione ci mettono di fronte a un interrogativo. La Baturina, con il suo pagamento di 3 milioni e mezzo di dollari alla società di Hunter, era in qualche modo collegata all'improvviso coinvolgimento di Joe Biden in Ucraina e all'inserimento di Hunter nel consiglio di amministrazione di Burisma. E il suo coinvolgimento è collegato al licenziamento, imposto da Joe Biden, del procuratore che indagava sul proprietario di Burisma, Zlochevsky? Per ora non ne siamo sicuri, ma sembra che verranno fuori altri dettagli su questa vicenda. Ma c'è un'altra serie di eventi che vale la pena di esaminare. Come abbiamo detto all'inizio, i rapporti di Hunter con la Cina risalgono almeno al 2010. Secondo il già citato rapporto del Senato del settembre 2020, nel 2015 sono iniziati i contatti di Hunter con l'uomo d'affari cinese Yi Jianmin che è il fondatore di CEFC China Energy ed è spesso presente nei contatti finanziari della famiglia Biden con la Cina. Yi è stato anche presidente del consiglio di amministrazione della filiale CEFC, il China Energy Fund Committee. Sebbene la CEFC sia rimasta una società privata fino a quando lo Stato non ne ha assunto il controllo nel 2018, ha ricevuto finanziamenti dalla Banca dello Sviluppo Cinese, ha assunto diversi ex alti funzionari di società energetiche statali e ha insediato i comitati del Partito Comunista nelle proprie filiali. E risulta che la società avesse legami con i servizi segreti cinesi. Insomma, la società era del tutto controllata dal regime cinese. La CEFC era una grande azienda, in forte crescita grazie al sostegno del regime. Nel 2016 figurava al 229esimo posto della classifica Fortune 500, con 42 miliardi di fatturato. Possedeva diverse migliaia di stazioni di servizio in Europa, molte delle quali acquistate dalla compagnia petrolifera statale del Kazakistan. La CEFC possedeva anche depositi di stoccaggio di petrolio per un milione di tonnellate in Spagna e in Francia, che sono serviti da importante canale per espandere la rete cinese di approvvigionamento mondiale di petrolio. La CEFC era parte integrante della nuova via della seta di Xi Jinping, concepita per espandere influenza e il potere del regime cinese in tutto il mondo. E Yi è stato infatti soprannominato dalla stampa il miliardario della nuova via della seta. A dicembre 2015, Yi va a Washington e il 7 dicembre incontra Hunter. Uno degli ex collaboratori di Hunter Biden ha anche raccontato al New York Post che Hunter ha portato Yi a una festa di Natale per presentarlo personalmente a suo padre, Joe Biden. Hunter continua a frequentare Yi fino all'inizio del 2018, quando Yi viene improvvisamente fermato dalle autorità cinesi e scompare dalla circolazione. Nel febbraio 2017, Hunter e Yi si erano incontrati in un hotel di Miami e Yi aveva offerto al giovane Biden 10 milioni l'anno per tre anni solo per ottenere delle presentazioni. Nello stesso incontro, Yi aveva regalato a Hunter un diamante di 3,16 carati del valore stimato di 80 mila dollari. Appena nove giorni dopo, il 23 febbraio 2017, State Energy HK Limited, una società con sede a Shanghai affiliata a CEFC China Energy, aveva inviato un bonifico di 3 milioni di dollari a Robinson Walker, una società direttamente associata a un altro socio d'affari di Hunter, Rob Walker. Altri 3 milioni di dollari erano stati inviati il primo marzo. Anche se non si sa ancora con precisione cosa sia successo con i 6 milioni di dollari, si sa che Hunter Biden ha ricevuto pagamenti regolari dalla società di Walker e oltre 500 mila dollari direttamente da Walker. Tutti i bonifici di 3 milioni sono stati segnalati come attività sospetta dall'autorità di vigilanza del Ministero del Tesoro. Nell'agosto 2017 viene ufficialmente costituita una nuova società denominata Hudson West 3 per consentire il trasferimento di denaro ai Biden. Yi aveva versato 5 milioni come capitale societario attraverso la sua società a responsabilità limitata e fa lo stesso con la Hudson West 5, a sua volta finanziata da CEFC China, mentre Hunter Biden non aveva versato nemmeno un centesimo pur possedendo il 50% della nuova società. L'accordo operativo di Hudson 3 prevedeva che Hunter ricevesse un anticipo di 500 mila dollari, più 100 mila al mese. Il fratello di Joe Biden, James, avrebbe ricevuto 65 mila dollari al mese. Questa nuova società ha anche assolto a ingenti pagamenti per spese fatte con carta di credito dai Biden. In poco più di un anno, OASCO, la società personale di Hunter ha ricevuto dalla Hudson 3 ben 4 milioni e 800 mila dollari. Oltre ai 65 mila dollari al mese versati a James Biden, i pagamenti sono stati effettuati anche a Lion Hall Group, una società di sua proprietà. La maggior parte di questo denaro, circa 1 milione e 400 mila dollari, sembra essere stato incanalato attraverso la società di Hunter, a sua volta finanziata dalla joint venture Hudson 3, le cui uniche entrate provenivano da varie società affiliate e direttamente legate alla CEFC di E. Nel novembre 2017 è stato effettuato un altro pagamento da E.C.FC a Hudson 3, questa volta per un milione di dollari. Pochi mesi dopo, la Hunter's Company ha ricevuto, indovinate un po', un milione di dollari per rappresentare Patrick Ho, un socio in affari di E. In seguito, Ho è stato accusato e condannato per corruzione internazionale e riciclaggio di denaro per il suo lavoro per il China Energy Fund Committee. Sostenuto dalla CEFC, Hunter Biden avrebbe in seguito definito Ho in un'email come il capo spia della Cina. Al momento dell'arresto di Ho negli Stati Uniti, ha fatto la sua prima chiamata a James Biden, che in seguito ha affermato che la chiamata era indirizzata a Hunter Biden. Dopo la costituzione di Hudson 3, Hunter Biden ha assunto una donna di nome Jiaqi Bao. Il suo coinvolgimento con Hudson 3 era molto più esteso di quanto si possa pensare. Secondo una lettera inviata da Comer, Bao lavorava anche per i dipendenti CEFC legati al regime cinese. Comer ha fatto presente che Bao risultava effettivamente gestire la joint venture a nome di Hunter Biden. Quando Yi è stato arrestato in Cina nel marzo 2018, Bao ha inviato a Hunter Biden un'email per spiegare che la situazione di Yi era cambiata e che Hunter Biden doveva ritirare quanto più denaro possibile dalla Hudson West 3. In caso contrario, il denaro sarebbe diventato di nessuno. In quel momento Hudson 3 aveva ancora circa 3 milioni e mezzo sul conto. È difficile capire cosa succederà dopo questa nuova ondata di rivelazioni. I Biden sembrano in difficoltà. Miranda Devine del New York Post ha fatto dei reportaggi incredibili. E ora il Post è stato escluso dalle conferenze stampa di Biden. Le risultate delle indagini repubblicane sui contorti affari finanziari della famiglia Biden o sono legate all'annuncio di Biden di volersi ricandidare? O magari sono una mossa preventiva del Partito Democratico o forse della fazione di Obama per non farlo candidare? Solo il tempo risponderà a queste domande. Ma una cosa è certa. Nulla cade per caso nella capitale della nostra nazione. Grazie per essere stati con noi a Truth Over News. Grazie a tutti.